Un insolito incontro. Emma Bonino, la leader radicale e ministro degli esteri, raccoglie l'invito del Papa e si dice pronta a digiunare per la pace in Siria. A Piazza San Pietro, sabato 7 settembre, Papa Bergoglio ha indetto una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero. Oltre ai fedeli cattolici, Bergoglio ha chiamato a riunirsi gli altri cristiani, i seguaci di altre religioni e anche i non credenti. Emma Bonino intende rispondere presente, è probabile, ha detto la passionaria radicale, riferendosi alla proposta di Francesco. Con i radicali si sta valutando la possibilità di fare tre giorni di digiuno nei giorni di venerdì, sabato e domenica, a sostegno di una soluzione politica in Siria, poi precisato. Anche i leader cristiani delle chiese orientali accolgono e rilanciano l'accorato appello per la pace in Siria, lanciato da Papa Francesco nell'Angelus. L'immito è stato accolto e rilanciato anche da molte associazioni come la Caritas Italiana, la comunità di Sant'Egidio, l'Azione Cattolica, ma anche da realtà non cristiane come la comunità musulmana di Cagliari. Anche l'Arcivescovo di Agrigento accoglie l'immito di Papa Francesco e invita tutte le comunità parrocchiali dell'Arcidiocesi di Agrigento ad accogliere il grido della pace che il Santo Padre ha pronunciato domenica 1 settembre. Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra terra, ha confidato il Papa, ma in questi giorni il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano. Il Santo Padre ha indetto per tutta la Chiesa il 7 settembre prossimo, vigilia della ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria. Per favorire una risposta di tutte le parrocchie dell'Arcidiocesi di Agrigento sul sito diocesano www.diocesiag.it sono suggerite delle proposte per organizzare nelle parrocchie momenti di preghiera in comunione con la veglia che si terrà sabato 7 settembre dalle 19 in piazza San Pietro.